Ferry Production, Nick e Ferry e gli amici di Lupele, parte quarta, giusto Ferry? Si si quarta, vai vai Ospite d'eccezione, nostro grande amico Alberto Albert Bello Batterista della media di Dezuia Media di Dezuia, nonché cittadino orario di Rozzampia City Taglia, taglia, cosa dobbiamo fare? Questa è la prima a caso che troviamo e cantare con... Io vedo una donzella là in fondo, non sta facendo niente Andiamo subito con la signorina Signorina ti scusi Buonasera, io sono Nick, lui e Ferry e noi siamo gli amici dell'Ukulele Allora, la regola è molto semplice Noi ukuleliamo e lei canta Ok, benissimo, canzone a caso, giusto Ferry? Come tradizione vuole, a caso, oggi è il giorno 13 dicembre Ma non facciamo nulla di... Suona, taglia, basta parlare suona Basta parlare, suoniamo A me faccio il fiorello avanti A me faccio il fiorello avanti Quello che le donne non dicono Allora, via! Ci fanno compagnia Certe lettere d'amore Parole che restano con noi E non andiamo via Ma nascondiamo del dolore Che scimola così Che scimola così Ma poi... Abbiamo troppo fantasie E se diciamo una bugia E una mancata verità Che prima o poi succederà Cambia il vento ma noi no E se ci confondiamo un po' E per la voglia di capire E per la voglia di capire Chi non riesce più a parlare Ancora con noi Siamo così Dolcemente complicate Sempre emozionate Delicate Ma potrai trovarci ancora qui Con le nostre notti pianghe Ma non saremo strani Neanche quando ti diremo ancora un altro sì Grazie a Monica Tavella Nostra grandissima amica E ci vediamo alla prossima puntata Applauso spontaneo